L'intervento nella mattinata di venerdì 9 agosto dei vigili del fuoco al lago di Dres, sopra a Ceresore Reale. Le squadre dei vigili del fuoco volontari di Cornier, con l'elicottero dei vigili del fuoco Drago e Isaf, hanno recuperato una mucca rimasta ferita. L'animale è stato vericellato a terra, assicuro, nonché affidato alle cure del veterinario. Grazie.